Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto mobiletti e armadietti mobile bagno 2. Il mobile bagnodomus ha due ante con le sue linee sinuose, fa rivivere emozioni del passato. I cassetti sono in multistrato di betulla bordati montati su guide a rientro ammortizzato. Il fianco è costituito da un unico pezzo. La superficie di tutto il mobile è in MDF, materiale che si presta per le laccature e i rivestimenti in foglia. Il mobile da bagno è dotato di piedini in nylon antigraffio per evitare il contatto tra pavimento e legno del mobile. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.